Noi oggi abbiamo voluto dare avvio proprio ad una sperimentazione nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Siamo riusciti a mettere in piedi una struttura che accolga davvero i ragazzi, che tenga conto delle loro necessità e delle opportunità che è necessario creare. E soprattutto creare dei luoghi di interazione con il territorio perché loro si sentano sempre più a casa, ma soprattutto perché il territorio senta che loro ne potranno fare parte sempre di più. È stata aperta la prima struttura ponte del Comune di Napoli che si pone l'obiettivo di garantire il diritto al riparo e alla protezione dei minori stranieri non accompagnati. È il centro casa, il ponte, e si trova nella struttura dell'Istituto Salesiani di Via Don Bosco, ospitata quindi all'interno del complesso che accoglie già numerose altre forme di solidarietà e di educazione, una scelta che incrementa la funzione di integrazione del servizio offerto. Secondo un rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, tra le persone fuggite da guerre, persecuzioni e violenze nel mondo, circa 33 milioni appartengono alla categoria dei minori stranieri non accompagnati, quella più a rischio a causa di frequenti episodi di violenza, sfruttamento e violazione dei diritti. Bella integrazione tra il Comune, la città e la comunità di Don Bosco. Il ponte, mai come in questo momento messaggio così forte, mentre chi pensa di innalzare mura, che sono l'espressione delle mura che hanno nel cuore, perché chi alza mura evidentemente ha anche una forte crisi di umanità e di esistenza. Al di là delle scelte politiche, questa città che soffre, che ha difficoltà economiche, che ha mille problemi, ma è rimasta umana. E questo credo sia un messaggio importante, fondamentale, da una visione alla città, una città di mare, una città con grandi tradizioni culturali, una città che storicamente ha vissuto integrazioni, contaminazioni culturali e religiose. Oggi dal cuore del Mediterraneo vuole dare un segnale verso il mondo che noi siamo città rifugio e il ponte significa costruire luoghi in cui accogliere le persone, insieme costruire comunità di convivenze con medesimi diritti e medesimi doveri. Ma il cambiamento della politica ormai deve venire dal basso, dalle sofferenze, dai territori, dai popoli, certe volte dagli amministratori locali. Prima o poi la sordità dei governi occidentali, dei governi potenti del mondo, dell'Unione Europea finirà. L'Europa non ha mai avuto una seria politica dell'immigrazione, come non ha una politica estera, non ha una politica della sicurezza. Affanne a Naspa e quindi sono lasciati i sindici in prima linea. In primo luogo il sindaco di Lampedusa, poi i sindaci del sud Italia, il sindaco di Napoli, poi viene l'Italia. Ma noi non ci fermiamo di fronte alla sordità delle politiche liberiste che contano il loro agire esclusivamente sul denaro. Di fronte all'emergenza umanitaria, di fronte alla tragedia che avviene nel Mar Mediterraneo, di fronte a quello che secondo me è il genocidio del terzo millennio, noi mettiamo innanzitutto l'accoglienza. Poi i soldi ce li andiamo a prendere. Questa è un'altra filosofia della nostra politica e ho chiesto anche ai miei assessori, alla squadra, ai dirigenti, agli impiegati tutti, che il Comune di Napoli ha il dovere di essere audace, perché ha lanciato la sfida della giustizia, certe volte anche contro la legalità formale. Le leggi vanno rispettate, ma se le leggi sono ingiuste vanno anche superate. Con la non violenza, con le armi della democrazia, ma noi siamo audaci, e l'abbiamo dimostrato in questi anni, saremmo già crollati se non fossimo stati audaci. Ma come abbiamo imparato a correre e a superare gli ostacoli, io ho analzato ancora di più la sticella. Bisogna correre di più ed essere ancora più coraggiosi. L'ho sempre detto, chi non ha coraggio si vada a riposare, perché non va bene a una squadra di questo tipo. Napoli vuole dimostrare che noi siamo pronti anche di fronte ad austerità pesanti, a crisi economiche, a difficoltà, e a tranelli e trabocchetti, e come leggete sui giornali, ci mettono ogni giorno.